Qualche giorno fa ho pubblicato un video sulle istruzioni fondamentali per andare a perdere grasso Ciò nonostante ho ricevuto la richiesta di andare a parlare del grasso ostinato sui fianchi Perché? Perché dopo il video iniziale di cui ti ho appena accennato ho anche fatto un video sul grasso ostinato addominale Ma molto spesso effettivamente la domanda più comune è come perdo il grasso addominale e il grasso sui fianchi È veramente quello che non vedo andarsene nel senso che vedo che comunque un po' di grasso l'ho perso mi vedo meglio ma quello proprio non se ne va Ecco questo video qua è qui per questo e ti vado a spiegare letteralmente tutto ciò che tu debba andare a sapere Ora come ho detto è molto comune che una persona inizi la propria fase di perdita di grasso magari anche di diverse settimane o addirittura mesi Il grasso scenda e questa parte qua sui fianchi non se ne vada e questo grasso qua prende il nome di grasso ostinato Non lo hanno tutti nel senso che ogni persona ha una zona dove lo tende ad accumularlo di più C'è chi lo tende ad accumulare più sull'addome c'è chi lo tende ad accumulare più sull'addome e sui fianchi C'è chi lo tende ad accumulare magari più sulle gambe e sui glutei E chiaramente in questo video andremo a parlare di fianchi Tra l'altro lascia che mi presenti il mio nome è D'Ordo Baldini sono qua da lontano 2016 Ho sempre affrontato l'alimentazione, l'allenamento e l'integrazione non basandomi sulle mie teorie Non perché io avessi delle idee Quella roba lì è piena ci sono un sacco di influencer e anche un sacco di medici che non ci capiscono una mazza di studi scientifici È proprio così Non sono tutti ma ce ne sono tanti Ecco no qui se gli studi ci dicono una cosa io trovo da riportare Altrimenti sto zitto che è esattamente ciò che molte persone invece sui social dovrebbero fare E allora per affrontare questa tematica dobbiamo innanzitutto ricordarci il punto fondamentale per perdere grasso Quindi se tu mi dici Edo io l'ho provata di tutte ma non perdo grasso e non sai esattamente quante chilocalorie tu stai assumendo Significa che non stai facendo le cose correttamente Quindi prenditi un minuto ti spiego tutto Prendi il tuo peso corporeo e moltiplicalo per 20 Quindi se pesi 80 fai 80 per 20 fa 1600 chilocalorie Quelle sono le calorie che ti possono permettere di perdere fino a un chilo di grasso Un chilo di peso dipende un attimo dalla tua situazione A settimana A settimana Edo? Sì a settimana Ma lo devi rispettare Quotidianamente devi tenere traccia di tutti gli alimenti che vai a mangiare Se dici però io un chilo a settimana non me la sento Voglio andare un pochino più cauto Peso corporeo per 25 E scendi più o meno sul mezzo chilo a settimana Dopodiché se il tuo obiettivo è quello e te lo consiglio di mantenere il muscolo Assicurati che di queste calorie il tuo peso corporeo per 1,6 provenga dalle proteine Cosa significa? Significa che se pesi 80 kg fai 80 per 1,6 Dovrebbe fare più o meno 150 grammi di proteine E quotidianamente rispetti questo apporto calorico Ricordati che le proteine oltre a essere uno dei macronutrienti Ed aiutarci a mantenere massa muscolare Ci danno un maggior senso di sazietà rispetto a carboidrati grassi E il 20% delle calorie che noi andiamo ad assumere attraverso le proteine Vengono bruciate solo per utilizzare l'altro 80% delle calorie Quindi è un ottimo strumento da andare ad utilizzare Addirittura se non vogliamo andare ad utilizzare solo 1,6 Possiamo andarne ad utilizzare anche molto di più Per esempio 2,4 grammi di proteine per chilo corporeo Ma il minimo è 1,6 E queste proteine noi le calcoliamo dagli alimenti pesati a crudo Quindi noi dobbiamo mangiare 100 grammi di petto di pollo Lo pesiamo crudo Lo cuociamo E il quantitativo di proteine rimane lo stesso Quindi se su 100 grammi di petto di pollo crudo Ci sono 25 grammi di proteine Quando l'abbiamo cotto anche se è diventato 50 grammi Sono sempre 25 grammi di proteine Mi raccomando Se non ti sei ancora iscritto fra l'altro Iscriviti così almeno YouTube ti consiglia tutti i video Non avrai più problemi nel raggiungimento dei tuoi obiettivi Proseguiamo Se sei in una fase di deficit calorico Quindi sei in una fase di dieta Ok? E lo sei da più di 8 settimane E il tuo peso non scende più È necessario fare una pausa Pausa cosa significa? Significa che non sarai più in dieta In termini di deficit calorico Andrai in mantenimento Quindi l'ammontare calorico Che permette al tuo corpo di rimanere costante con il peso attuale Quindi senza andarlo ad aumentare Senza andarlo a diminuire In un'ottica di quantitativo di grasso Questo è importante Perché? Perché quando noi siamo in deficit calorico E lo siamo per diverse settimane Avvengono degli adattamenti Adattamenti Metabolici Ormonali Che cosa fanno sì? Che fanno sì che tu Non finisca più per perdere grasso Che il tuo peso non scenda più E anzi addirittura potrebbe aumentare A quel punto molte persone cosa fanno? Riducono ulteriormente E niente cambia Di nuovo perché ci sono questi adattamenti Che fanno sì che il tuo peso non scenderà più Quindi cosa è importante andare a fare? Vai a fare il tuo peso attuale Quindi non quello iniziale Quello a cui sei arrivato o arrivata Lo vai a moltiplicare Perché questo vale sia per uomo che per donna Lo vai a moltiplicare per 32-33 Quindi se pesi 70 kg Fai 70 per 32 Quello è il tuo quantitativo di mantenimento Lo mantieni per una o due settimane E dopodiché Rivai di nuovo in deficit calorico Andando a fare cosa? Andando a prendere il tuo peso attuale E andando a moltiplicare per 20 o per 25 Che erano le calorie di cui abbiamo parlato prima Per perdere grasso Ora attenzione Qualora tu vedessi il peso fluttuare Quando andrai ad aumentare le calorie Non ti preoccupare Non è grasso È semplicemente che stai mangiando di più E il peso potrebbe fluttuare Semplicemente come il fatto Che tu abbia più cibo non digerito All'interno della pancia Per intenderci Attenzione che Invece potresti addirittura vedere Che andando ad alzare le calorie Il peso scenda È una cosa che succede veramente frequentemente Po perché noi andando ad alzare le calorie Abbiamo eliminato gli adattamenti Quindi questi meccanismi di protezione del corpo Che non ci faceva più scendere di peso E quando vede Che noi gli diamo più calorie Dice Ah allora è tutto a posto Scendiamo di peso Quindi bellissimo Ora prima di proseguire Che ti vado a parlare poi anche di tutta la tematica di allenamento Perché fino al momento abbiamo parlato solo di alimentazione Ti ricordo che se una volta finito di vedere il video Tu non vorrai più pensare a queste cose qua Quindi a calcolare le proteine Carbiodrati Grassi A calcolare le calorie di mantenimento Di deficit calorico A crearti il tuo piano alimentare A pesare il pollo Comprendere quante proteine vi siano E tutta questa roba qua Sappi che è un pacchetto Chiamato Ora basta dimagrimento scientifico pratico Che è una guida pratica Quindi non c'è teoria È una guida che tu oggi stesso Lo prendi Per uomo Per donna Per tutte le fasce di peso Per tutti i livelli di attività giornaliera Anche qualora una persona Non si allenasse Cosa ti dà? Ti dà già tutti i calcoli fatti Quindi tu Punto numero uno Non devi fare nessun calcolo Punto numero due Ti dà tutte le diete Pronte per essere seguite Per tutte le esigenze Perché è tutto personalizzabile Attenzione senza bisogno di fare calcoli Quindi tu oggi stesso parti Trovi già tutti i calcoli fatti Oggi stesso parte Ti dice il lunedì mangia questo Il martedì mangia questo Il mercoledì mangia questo Il giovedì mangia questo Tutti i giorni Primo pasto Secondo pasto Terzo pasto E così via Ti dà i dosaggi Ti dà tutto In più insieme viene un supporto a vita Così se mi dici Edo io mi voglio mangiare Il mio salmone norvegese Che viene pescato Solo di giovedì Come posso darlo ad inserire? C'è il supporto email Entro 24 ore Ti vengono fatti tutti i calcoli Ti vengono fatte le modifiche E tu non devi pensare a niente Se non perdere grasso Meglio di così Ti costa meno Di una cena mediocre fuori E tu sei a posto per la vita Perché la guida rimane tua Quindi io la pagina Te la lascio Giù in descrizione e nei commenti Facci un pensiero Se invece Non hai ancora iniziato La fase di definizione Recentemente E sei pronto per partire Sappi che In linea generale Ogni otto settimane Prenditi una pausa Di una settimana Dove per pausa Però di nuovo Non intendiamo Che ti vai a mangiare Quello che ti pare Una settimana Di McDonald E Don Perignon No ecco Non vai a fare questa roba qua Cosa vai a fare Vai in mantenimento Mantieni per una settimana Due settimane E poi torni di nuovo In deficit calorico In questo modo qua Andiamo a prevenire O comunque ad annullare Qualora si fossero già manifestati Questi adattamenti Metabolici E ormonali Per quanto riguarda invece L'allenamento Cosa c'è da dire C'è da dire che Contrariamente a quanto I vari cazzari Sui social network Perché C'è tantissima disinformazione E io lo comprendo Quanto sia difficile Per una persona Che magari dice Io voglio semplicemente Perdere grasso Però mi vedo i miei video Su TikTok Mi vedo i miei video Su Instagram E mi confondono Io mi dispiace per te Veramente Però è pieno Ecco Non esistono Metodologie di cardio Quindi non importa Se metti il tapirulani In pendenza 15 A velocità 5 3.6 Perché le vedo Che ti dicono Metti il tapirulani All'altezza 13 Più La velocità 3.2 Perché così Si innesca Un meccanismo Di perdita di grasso Non esiste niente Di tutto ciò Il cardio È uno strumento Per eventualmente Incrementare Il dispendio calorico Non è nemmeno necessario Che tu lo vada a fare Chiaramente Se sei una persona Che non si allena È bene Quanto meno Cercare di essere Un minimo attiva Perché comunque Aiuterà Ad avere Un maggior dispendio calorico Ma se una persona Si allena con i pesi E va a seguire Per esempio Un programma Come ora basta Di maglimento scientifico pratico O va a seguire L'istruzione che ho dato Può benissimo Perdere grasso Senza bisogno Di andare a fare il cardio E anche qualora Una persona Volesse fare il cardio Ricordo che Il migliore Ma non perché Ci faccia bruciare Il grasso sui fianchi È semplicemente Perché è quello Meno stressante Che va a rendere Meno problemi Nella fase di perdita Di grasso Perché sì Se tu vai a fare Un'attività aerobica Metabolica Quindi magari I megacircuiti Quella roba lì Quando hai poche calorie E soprattutto Pochi carboidrati Il rischio che tu finisca Da lì a poco In uno stallo È altissimo Quindi Il miglior cardio Che una persona Possa andare a fare Cos'è? È monitorare Il quantitativo Di passi giornalieri Che vado a fare In un giorno Quindi Devo cercare Di essere attivo Perché magari Non mi alleno O magari mi alleno E voglio cercare Di aumentare Il mio dispendio calorico Qualsiasi telefono Ha un app O se può installare Che tiene conto Dei passi E io vado a farmi Voglio fare sul tapirulana Lo faccio sul tapirulana Mi faccio la mia camminata Una velocità Quattro e mezzo Cinque In pianura Un piacere Brucio calorie Senza troppo stress Quella è la cosa migliore Che tu possa andare a fare Per il cardio Da un punto di vista Di cuore È importante Ma non si fa In una fase di definizione Si fa quando le calorie Sono alte Non quando sono basse Altro punto Molto importante Sempre riguardante L'allenamento Potreste aver sentito dire Che devi andare a fare Tanti esercizi di obliqui Ok Devi andare a fare questo Devi andare a fare questo Devi fare tanti addominali No Questa roba qua Non ti fa bruciare Il grasso dei fianchi Devi infatti sapere Che questo grasso dei fianchi Si chiama grasso ostinato E il grasso ostinato Se ne andrà La cosa però importante È che lì devi dare il tempo Nel senso che Tu devi iniziare con la tua dieta Facciamo il nostro esempio Ok Quindi tu hai fatto la tua dieta Le settimane passano Il grasso scende Perché stai seguendo Le istruzioni che ti ho dato Dopo 8 settimane Come ti ho detto Ti fai la tua pausa Di 1-2 settimane Dopodiché Ti rivai di nuovo In deficit calorico E il peso continua a scendere I fianchi continuano a rimanere Praticamente non hai più grasso Se non sui fianchi Ecco È lì esattamente Che devi continuare A fare questo ciclo Di 8 settimane di dieta 1-2 di pausa 8 settimane di dieta 1-2 di pausa 8 settimane di dieta 1-2 di pausa E il grasso sui fianchi Se ne andrà Non conta Quale esercizio Tu vada a fare Non esistono esercizi Che ti fanno bruciare Il grasso sui addominali Non esistono esercizi Che ti fanno bruciare Il grasso sui fianchi Non esiste questa roba qua Se ti vuoi allenare Sicuramente male non fa Otterrai dei muscoli O se hai già dei muscoli Ti aiuteranno a mantenere i muscoli Assolutamente sì Perché sappiamo che Per mantenere i muscoli Se non ci alleniamo Praticamente è veramente Difficile mantenere La maggior parte di essi Ma ecco Il grasso sui fianchi Li devi semplicemente Dare il tempo Perché si chiama Grasso ostinato Per un motivo È l'ultimo ad andarsene Anche il primo Potenzialmente ad accumularsi Quindi non ti far fregare Dalle tipologie di cardio Non ti far fregare Dalle tipologie di allenamento No Puoi perdere il grasso sui fianchi Anche senza andarti ad allenare Anche senza fare Tipologie di cardio Particolari Semplicemente Seguendo le alimentazioni Che ci ho detto E cercando di fare Un minimo di passi giornalieri Un buon punto Almeno iniziale È di almeno 5-6 mila passi giornalieri Giusto per essere Un minimo attivo E anche dare Un po' un boost A sto metabolismo Se magari non fai proprio niente Se invece ti alleni I passi hanno comunque senso Però ecco Magari si tende già A considerare Che il tuo metabolismo Sia già attivo Per via del fatto Che hai messo Della massa muscolare Ora Attenzione Potresti sentir parlare Di integratori E sì Ci sono degli integratori Per il grasso ostinato Ovvero Integratori come La ioimbina Di cui il dosaggio È di 0,2 mg Per chilo corporeo Quindi se di nuovo Pesi 80 kg Sono 16 mg Al giorno Da prendere al digiuno Al mattino Finalmente O comunque In due dosi Comunque a digiuno E può effettivamente Andarci ad aiutare A perdere il grasso Ostinato Ma Tu devi essere già arrivato Al punto Da avere solo il grasso ostinato Quindi devi averti fatto Tutti i cicli Che ti ho detto Quindi pausa Definizione Pausa deficit Pausa deficit Arrivare solo a quello E prendi la ioimbina Per toglierlo Ma non è che Se ne va da solo Devi essere comunque Sempre in deficit calorico E in più ti aiuterà A togliere Perché vado ad attaccare Quel grasso lì Tutti gli altri integratori E attenzione È pieno di truffe In campo integrazione Veramente se ne trovano Di tutti i colori Se non vuoi buttare via soldi In integratori inutili Ricordo che insieme alla guida Sull'alimentazione Che ti ho parlato prima Ci puoi abbinare anche la guida Sull'integrazione Che ti smaschera Tutte le cavolate Sull'integrazione Che vengono insegnate Comunque altrimenti Guarda i miei video Che comunque aiuto Veramente tanto A proteggersi dalle truffe Ecco Tutti gli integratori Che potresti sentire Di andare ad attaccare il grasso Considera che nella maggior parte Di casi sono truffe I due più studiati Sono la caffeina Dove vogliamo 100-400 mg giornalieri E l'EggCG Che è una catechina Del tè verde 500 mg giornalieri Tutti gli altri Non sono ancora ad oggi Provati scientificamente Con materiale concreto E dopo abbiamo la ioimbina Ma mentre la caffeina E l'EggCG Ci possono aiutare A perdere il grasso In generale E comunque Vogliamo andarlo ad utilizzare Quando comunque Abbiamo già perso Un po' di chili La ioimbina La andiamo ad utilizzare Solo quando ci è rimasto Il grasso ostinato Quindi solo quando abbiamo Perso il grasso Non ti devi demordere Devi semplicemente Seguire questo ciclo Che ti ho detto E il grasso ostinato Se ne andrà Se poi ci abbini anche la ioimbina Magari un aiuto in più Ci può essere Gran parte la farà L'alimentazione Quindi applica tutto questo E non puoi Che perdere grasso Se hai delle difficoltà Scrivile qui sotto Che magari ci faccio Un altro video Detto ciò Io ricordo che Se vuoi smettere Di pensare a tutte queste tematiche Qua Avere il mio supporto a vita Per perdere grasso Una volta per tutte C'è il percorso Ora basta Dimagrimento scientifico pratico Che ti dà Già tutte le diete pronte Tutti i calcoli già fatti Quindi non devi fare i calcoli Non devi inventarti le diete Sono già tutte pronte Personalizzabili Per onnivori Vegani Vegetariani Uomo Donna Ventenne Quarantenne Sessantenne Persona che si allena in palestra A casa O non si allena proprio Ci sono tutte le casistiche Si parte Di giorno in giorno Si sa cosa mangiare Quanto mangiare Si perde grasso E se si ha bisogno Se hanno delle domande Si vuole un aiuto Nella personalizzazione Se ha il mio supporto Anche con il pacchetto più piccolo Il mio supporto a vita Quindi veramente meglio di così Non si può La maggior parte delle persone Immaginati Il classico nutrizionista Se non continui a pagarli Si lascia lì al tuo destino No Qui ha il mio supporto E il supporto di tutto il mio team A vita Gratis Incluso La pagina te la lascio Giù in descrizione Nei commenti Meglio di così Non si può Come dicevo Ci puoi abbinare anche il mio percorso Sull'integrazione Se vuoi andare a perdere grasso Da un punto di vista Anche di integrazione Nel migliore dei modi Ci puoi abbinare anche I programmi di allenamento Ok Per la palestra Per la casa Per chi ha più o meno attrezzatura Tutte le pagine Te le lascio Giù in descrizione Nei commenti Se hai delle domande Sui miei percorsi Come funzionassero Se potessero fare per te Questo è il numero di whatsapp Di Alessandro o Maddalena Le registriscono entrambi Ti possono rispondere Entrambi Sono i miei due aiutanti Che sono lì apposta Per rispondere ai dubbi Sui percorsi Sui servizi E tutto quanto Oppure c'è l'email Non mi resta che augurarti Buona perdita Di grasso dei fianchi Noi come sempre Ci vediamo Tutti i giorni da luna Sebbio su questo canale Ciao a tutti Peace